Sulla vicenda dei due Marò in India interviene il ministro della difesa di Paola che dice siamo fiduciosi. Marilu Lucrezio. Per noi è un tema particolarmente importante anche per le attività che svolgiamo nell'oceano indiano e legata anche alla questione dei due Marò come ben noto. Noi siamo in attesa che la Corte Suprema Indiana si pronunci e siamo fiduciosi che la Corte Suprema Indiana riconoccerà il diritto, il giusto diritto della posizione italiana. Il ministro della difesa Giampaolo Di Paola chiude il nono simposio delle marine del Mediterraneo e del Mar Nero che si è svolto a Venezia. Il pensiero è rivolto a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri del reggimento San Marco trattenuti da più di otto mesi in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori locali. Ieri il capo di Stato Maggiore della Marina, Amiraglio Binelli Mantelli, ha detto di essere fiducioso, ce la faremo a portarli a casa, spero entro Natale e ha aggiunto i tempi lunghi sono un buon segnale sul fatto che la sentenza dell'Alta Corte di Deli possa essere positiva. Anche il ministro degli Esteri Terzi pochi giorni fa si è pronunciato sui due Marò, torneranno a casa presto, ha assicurato, non sono in grado di dare la data ma torneranno a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.